Tutte le domeniche di affrontare l'Albino Leffe, visto che hai segnato l'andata, hai segnato il ritorno, ci venisse anche la prossima volta. Partiamo da questi tre punti che sono stati secondo me il coronamento di un girone d'andata fantastico, perché a livello di prestazioni collettive abbiamo fatto un campionato importante di livello, al di là di come andrà la fine del campionato. Dal punto di vista individuale, di gol ne ho fatti pochi, però sono riuscito a segnare contro l'Albino Leffe sia l'andata che il ritorno, ho avuto anche l'occasione per farne un altro, ho sbagliato la scelta, purtroppo sono cose che succedono, l'importante alla fine è sempre il risultato, siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali, e adesso si è lì davanti e va benissimo così. Ma nell'occasione del possibile 2-0 il portiere te l'ha toccata o hai fatto tutto te? Allora praticamente è stata una gran palla di Simone Guerra, io l'ho stoppata, nel momento in cui l'ho stoppata ho visto il portiere che mi stava uscendo, l'ho stoppata un po' lunga e quando l'ho spostata il portiere non me l'ha toccata, però ero troppo vicino a lui, no non l'ha toccata, ero troppo vicino a lui e quindi non avevo lo spazio per concludere, dovevo calciare di prima intenzione. Siete in testa da soli, secondo te la Feralpi può mantenere questo ritmo fino alla fine? Non saprei, barra non vorrei rispondere a questa domanda, perché secondo me facciamo fede a quello che abbiamo fatto fino ad ora, ci basta questo, nel senso per capire che campionato possiamo fare, vogliamo toglierci tante soddisfazioni, e tra di noi ce lo diciamo, lo sappiamo, noi siamo consapevoli. Il campionato, secondo me, vincerlo cambierebbe la carriera a tutti, sarebbe la cosa più bella, però quello che viviamo tutti i giorni in spogliatoio, la domenica, è quello che ti appaga maggiormente, quindi secondo me sarebbe il coronamento di qualcosa che ci meritiamo davvero. Per quanto riguarda rigore, sei tu il rigorista numero uno per quello che hai calciato? Sì, questa è una domanda da fare al mister, penso di sì. Hai battezzato l'angolo? Guardi il portiere? In realtà, tendenzialmente, cerco di decidere un angolo prima e poi di calciarlo forte lì. Oggi, prima di calciare rigore, 3-4 avversari hanno detto al portiere, lo conosci, va di là, ultimamente ho sempre calciato ad aprire, ho visto che nel momento in cui stavo per calciare lui si è proprio buttato e quindi ho detto, la volevo tirare centrale, barra chiudere, e quindi l'ho messa lì. Sì, 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 sì. Sì, il portiere è andato dall'altra parte. Hai detto che hai segnato poco, in effetti in assoluto, 4 gol in 20 partite, non tutte giocate peraltro, non sono una gran cifra, però diventano una gran cifra nel momento in cui avete una fase difensiva di questo livello, per cui, come diceva l'amico Davide prima, non prendete gol e quindi ve ne bastano anche pochi. Cioè, è un complesso di gioco diverso, non vincete 4-1, ne avete vinte 1-4-0, molto spesso ve ne basta 1. Sì, secondo me è un po' l'identità della nostra squadra. Alla fine ricordo l'anno scorso, anche se io ero a Cesena, gli ultimi sei mesi, su Tirola ha vinto con la miglior difesa d'Italia. E quindi, secondo me, la nostra identità è quella, lavoriamo bene, che parte da noi attaccanti, arriva fino al portiere, passando per tutti, c'è voglia di sacrificarsi per il compagno. E quindi magari pecchiamo un po' in fase realizzativa, non riusciamo a essere così efficaci come le occasioni che creiamo, perché alla fine il pallino del gioco ce l'abbiamo molto spesso noi. Le occasioni vengono create, ma dal punto di vista difensivo penso che, vabbè, abbiamo dei difensori, dei centrocampisti, centrocampisti e dei portieri che sono in questo momento, secondo me, se no non saremo primi, i migliori del campionato. Quindi è un punto di partenza importantissimo, se poi ci mettiamo dentro, come ha detto il presidente alla cena, i gol delle attaccanti, sarebbe molto bello, molto più bello anche per noi. Io volevo che, innanzitutto, complimenti, la solita partita di grande sbattimento, grande sacrificio, che però è la tua caratteristica. Cesena ha 38 punti, però è terzo, la Feralpi ha 38 punti in testa, ti chiedo se sei soddisfatto innanzitutto della scelta che hai fatto di venire qui. E poi si diceva che la Feralpi faceva fatica in casa, in realtà poi dopo l'ha sconfitto con il Renate avete aggiustato il tiro. Ti chiedo cos'è il prossimo step da migliorare, se c'è da migliorare per poter proseguire in questo cammino. Va bene, grazie per i complimenti. Cesena ha 38 punti, terzo in classifica, noi siamo primi a 38 punti. Io mi trovo alla Feralpi, sono orgogliosissimo della scelta che ho fatto, della volontà del direttore, della società, dello staff, comunque a volermi, a portarmi qui, e in questo momento sinceramente penso solo ed esclusivamente alla Feralpi. Per quanto riguarda da migliorare, penso ci sia sempre da migliorare. Un aspetto potrebbe essere quello realizzativo degli attaccanti, visto che dal punto di vista difensivo, dal punto di vista dello sbattimento, non ci si può dire niente. Magari ci manca qualche numero in più a livello realizzativo, però da qui possiamo solo che migliorare. Secondo me la strada è quella giusta, è quella che vogliamo percorrere, e lo faremo sicuramente. Giustamente dice prova di grande sbattimento tuo e dei tuoi compagni dell'attacco. Statistiche che ho pubblicato oggi parlano di giocatori dell'attacco che sono i più sostituiti, perché proprio fate le due fasi e uscite a fine partita. Sì, diciamo che abbiamo il GPS mentre giochiamo e vedendo i numeri di noi attaccanti, ma di tutta la squadra, sono veramente importanti. Nel senso che c'è un livello atletico dato dai preparatori, dall'intensità in allenamento è importante, quindi il fatto che riusciamo a mantenerlo e magari nel mio caso oggi al 65esimo sia stato sostituito ed è entrato un giocatore che ha fatto meglio di me, anche se non è purtroppo riuscito a segnare, questo fa capire che stiamo bene tutti e che il mattoncino che lo porta a Pittarello, lo porta a Cernigoi, lo porta a Legati vale per la squadra e quello è secondo me la cosa più bella all'interno di un gruppo. Sì, sono d'accordo, ormai è tanto che gioco, ho sempre avuto la fortuna di giocare in gruppi importanti dove sono stato sempre bene, dove non ho mai trovato persone che non andassero bene, però sarà che il passato dopo un po' lo rimuove e ti ricordi solo delle cose negative, tra virgolette, non di quelle positive. In questo momento di presente stiamo proprio bene insieme, stiamo tanto al campo, tutti si sta bene, andiamo a un ritiro in casa, c'è proprio una... si vede proprio, si respira e secondo me è quello che in questo momento ci sta facendo la differenza. Mangiate anche al campo. Mangiamo anche al campo, viviamo al campo.